Le start-up innovative in provincia di Arezzo sono un numero ancora relativamente basso, sono 28 all'anno, mediamente 30-28 start-up innovative al femminile che nascono in provincia di Arezzo. L'idea che noi abbiamo è di favorire un incremento di questo numero. Cercasi creatrici di start-up si tratta del progetto Inventor Lab del Dipartimento di Scienze della Formazione e Scienze Umane della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena, del Comitato IFE e della Camera di Commercio destinato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile. Vede la Camera di Commercio e l'Università, quindi due istituzioni, fare network per che cosa? Per sostenere l'imprenditoria femminile e soprattutto per sostenere la creatività di chi studia dentro l'Università e già si immagina, si prefigura su quale progetto impegnarsi. Questo progetto poi sarà premiato, chi vincerà, con dei fondi, con una borsa di studio e diventerà una start-up. Quindi questa è una traiettoria che noi vorremmo presentare, presenteremo come pratica eccellente alla nostra rete di università. Noi abbiamo vinto un progetto che coinvolge 14 università proprio sull'orientamento al lavoro e questa è una di quelle iniziative che noi riteniamo fondamentali, perché c'è la creatività, impegnati e inizia a pensare che cosa vorresti fare e farlo in termini innovativi. Non sei sola, c'è chi ti sostiene e chi ti sostiene è il mondo del lavoro insieme all'università. In un mondo dove il lavoro fisso è diventato una chimera e dove si deve in qualche modo cercare di inventarsi il lavoro del futuro, la comunione e la contaminazione con le università è proprio la strada giusta per cercare di formare le giovani donne che possono diventare e saranno sicuramente le imprenditrici del domani. Dunque un vero e proprio concorso di idee aperto a studenti e studentesse. Potranno partecipare gruppi di studenti e studentesse, un minimo di gruppi due partecipanti, massimo sei afferenti agli sfusi, anche appartenenti a corsi di laurea diversi, presenteranno una proposta progettuale che caricheranno e poi il 14 gennaio 2020 ci sarà un hackathon contest qui alla sala del consiglio della Camera di Commercio e presenteranno le proposte di start up imprenditoriali che hanno una forte ricaduta di promozione dell'innovazione sociale sulla comunità locale.